Ciao a tutti e bentornati. Lo spinning si compone di tanti elementi che sono parimenti essenziali, a partire dall'attrezzatura passando per le esche artificiali che devono essere selezionate con un certo criterio. Ma vi è un altro elemento che è assolutamente necessario conoscere perché si possa portare poi in spiaggia, riuscire a spiaggiare il pesce una volta all'amato e mi riferisco ai nodi che devono essere ben fatti e devono dare delle garanzie di tenuta. Oggi vi parlerò proprio di questo, dei nodi più semplici da realizzare, di quelli che utilizzo io da quando praticamente ho iniziato a pescare a spinning. Quindi mettetevi comodi perché iniziamo. Bene, come detto lo spinning si compone di tanti elementi a cui deve essere attribuita la medesima importanza e i nodi sicuramente sono ciò a cui bisognerebbe dare più attenzione perché la buona riuscita di un nodo consente maggiore tranquillità, garantisce maggiore tranquillità nel momento in cui vi è l'allamata e bisogna magari spiaggiare il pesce in condizioni difficili. È ovvio che il nodo rappresenta un elemento di debolezza del sistema e quindi riuscire a stringere e comunque a compiere dei nodi ben fatti sicuramente dà un po' di vantaggio e magari una maggiore tranquillità. Nello spinning i nodi che separano il pescatore dall'esca artificiale sono fondamentalmente due. Quello che congiunge trecciato e fluorocarbon è quello che congiunge il fluorocarbon quindi lo spezzone finale del fluorocarbon allo sgancio rapido e quindi all'esca appunto. Sarebbe lecito chiedersi perché aggiungere un elemento di debolezza tra il trecciato e l'esca quindi aggiungere questo spezzone di fluorocarbon che altro non è che un elemento di debolezza perché si aggiunge un nodo che quindi potrebbe essere mal riuscito comunque potrebbe non garantire la stessa tenuta del trecciato integro. Ma a mio avviso questo spezzone di fluorocarbon è indispensabile perché più resistente alle abrasioni e la parte più vicina all'esca sicuramente più soggetta alle abrasioni ha magari lo sfregamento contro scogli, ostacoli sommersi oppure contro la schiena o le pinne dei pesci allamati. Quindi avere magari la possibilità di contare su uno spezzone di filo più resistente sicuramente mette al riparo eventuali rotture perché il trecciato si sa è molto fragile nonostante abbia un'ottima tenuta è molto fragile quando risulta abraso. Quindi a mio avviso considerati i vantaggi che garantisce non vi è discussione sul fatto che questo spezzone di fluorocarbon vada aggiunto al trecciato. Ora posto che questa congiunzione si debba fare qual è il nodo più utile a congiungere appunto due materiali diversi che sono appunto il trecciato e il fluorocarbon? Io utilizzo da più di un decennio ormai un nodo che ritengo molto semplice. Ce ne sono tanti altri però secondo me questo mi ha dato tante garanzie. Io non ho mai perso un pesce a causa della rottura del nodo o comunque dalla mancata tenuta del nodo e poi dobbiamo sempre considerare che a pesca è vero che magari si perde qualche chilo nella tenuta del trecciato però è anche vero che nella pesca il mulinello gioca un ruolo fondamentale soprattutto la frizione del mulinello quindi non pescheremo mai a frizione chiusa e chiusa a tappo ovviamente e quindi questo equilibrio in tutto il sistema pescante ci metterà al riparo da eventuali rotture. Allora voglio mostrarvi la realizzazione di questo di questo nodo che reputo molto semplice. Qui ho uno spezzone di fluorocarbon a cui pratico un piccolo nodo ecco si crea un'asola dentro cui faccio passare il trecciato ecco qui più o meno questo una quindicina di centimetri forse qualcosa in più adesso stringo il nodo e creo questa è l'eccedenza rispetto al nodo sempre una quindicina di centimetri crea un'asola è uno dei nodi più semplici da realizzare creo un'asola e adesso mi limito a creare delle spire il numero delle spire da creare dipende anche e soprattutto dallo spessore del trecciato e chiaramente anche del fluorocarbon io con in questo momento sto annodando un trecciato sto congiungendo un trecciato dello 0 23 a un fluorocarbon dello 0 55 non ricordo quindi diciamo che compio una decina di spire credo siano sufficienti a questo punto raggiunta la decima spira bisogna intrecciare a ritroso quindi far passare il trecciato sulle precedenti spire creando un sistema praticamente armonico in modo che il trecciato si possa adagiare sulle spire già create ecco qui se ne ho realizzate 10 il ritorno saranno 9 9 alla fine l'eccedenza la faremo passare all'interno dell'asola e avremo questo risultato non so se riuscite a vederlo bene ora ci basterà stringere fare in modo che le spire non si accavallino andrebbe anche umidificato però ecco qui qui questo è un nodo il tonipegna insomma realizzato in cui le spire non si sono accavallate e questo garantirà un'ottima tenuta si potrebbe realizzare qualche bocca di lupo utile a chiudere ma potrebbe a chiudere trecciato e fluorocarbon qui nelle eccedenze però io non la realizzo quasi mai insomma si potrebbe si potrebbe fare ma non farlo non è sbagliato si taglia l'eccedenza naturalmente le eccedenze le conserviamo avendo cura di non lasciarle a terra di non buttarle a terra ed ecco qui un tonipegna che dovrebbe garantire un'ottima tenuta piccola interruzione i miei video vengono visualizzati sempre di più di questo sono felicissimo però non tutti i fruitori di questo spazio sono iscritti al canale se sei tra questi valuta l'idea di iscriverti ora ti costa pochissimo due click per me sarebbe molto importante come ho anticipato i nodi che separano il pescatore dall'esca artificiale sono due quello utile a congiungere trecciato e fluorocarbon è il nodo tra fluorocarbon e sgancio rapido ora voglio mostrarvi proprio questo probabilmente è il nodo più semplice da realizzare a pesca e mi riferisco al clinch qui ho il mio fluorocarbon e qui lo sgancio rapido già agganciato a un'esca inserisco il fluorocarbon all'interno del dello sgancio rapido mi tengo un buon margine creo un'asola e inizio a compiere una serie di spire che dipendono chiaramente dalla dallo spessore del del fluorocarbon in questo caso io ne ho realizzate 545 e poi inserisco semplicemente l'eccedenza all'interno dell'asola non mi resterà stringere serviva magari rendere un po più umido per evitare uno sfregamento e quindi il danneggiamento del del fluorocarbon in questa parte finale però questo è solo a scopo esemplificativo ed ecco un nodo clinch realizzato con successo qui in questo caso si taglierà l'eccedenza lasciando un piccolo margine ed ecco qui un clinch ben riuscito sicuramente non è tra i nodi che garantiscono maggiore tenuta però ripeto se si pesca in modo equilibrato e quindi la frizione fa il suo lavoro non vedo come possa dar noi un nodo ben realizzato rappresentano sempre elementi di debolezza del dell'intero sistema pescante ma se ci si fida dei nodi che si che si realizzano probabilmente quella è la migliore strategia da adottare nelle condizioni più difficili quando magari sia il vento frontale perché ricordiamo a spinning si pesca in condizioni difficili magari sotto la pioggia con forte vento realizzare nodi semplici che comunque garantiscono una buona tenuta io penso sia la strategia migliore questi sono i nodi di cui mi fido di più perché li ho sempre realizzati e non mi hanno mai tradito io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti quali nodi utilizzate se sono gli stessi che utilizzo io oppure se ricorrete a nodi un po più complessi nella realizzazione però che magari garantiscono maggiore tenuta vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto di attivare la campanellina così resterete notificati tutte le volte che pubblicherò un nuovo video e niente condividete il video con chiunque possa essere interessato all'argomento vi ricordo che in descrizione troverete una serie di link c'è quello che rimanda al mio sito internet utilizzando il codice sconto pesca 15 avrete diritto al 15 per cento di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo c'è il link del mio libro il buio senza voce il link del mio secondo canale youtube in cui parlo di altre cose se vi va dategli un'occhiata e niente noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca ciao